I just wanna have fun clap my hands, turn around now and dance dance dance, I just wanna have fun clap... In questo momento sto realizzando una proposta per l'environment, stiamo lavorando in quattro, adesso ci siamo splittati dagli altri per lavorare sulla parte di narrativa, per il lavoro che poi andrà ai ragazzi di CG. Allora, senza dire troppo, sto lavorando al design di un personaggio, uno dei personaggi principali. Noi abbiamo ricevuto dai committenti un vibe che il personaggio deve avere, quindi ci siamo trovati le reference apposta e adesso stiamo cercando di costruirlo mettendo assieme i pezzi che i committenti ci hanno dato e speriamo di azzeccare tramite le revisioni che ci danno, speriamo di aggiustare la meta, diciamo. Sto sviluppando gli environment per la tesi, stiamo partendo da delle immagini di riferimento collegate che non posso dire a cosa e poi cercando anche di farle collimare con il mood e con la drama. Ciao!